Un giovane di nome Giovanni Guasconti venne, molti anni or sono, dalla più meridionale regione d'Italia, per continuare i suoi studi all'università di Padova. Non avendo in tasca che pochi ducati d'oro, Giovanni prese alloggio in una tetra stanzetta all'ultimo piano di un vecchio edificio, che sembrava non indegno di essere stato il palazzo di un nobile padovano, e sul cui ingresso, infatti, faceva mostra di sé lo stemma di una famiglia da lungo tempo estinta. Il giovane, che non mancava di conoscere il gran poema del suo paese, ricordò che uno degli antenati di quella famiglia, e forse uno che aveva abitato in quella stessa dimora, era stato descritto da Dante come partecipe degli eterni tormenti del suo inferno. Queste riminiscenze e questi rapporti, insieme con la tendenza alla malinconia, naturale in un giovane che si trovi lontano dal suo mondo, trassero un lungo sospiro dal petto di Giovanni, mentre volgeva intorno uno sguardo alla squallida stanzetta male ammobiliata. «Santa Vergile, signore!» esclamò la vecchia madame Elisabetta, che, conquistata dalla bellezza del giovane, stava gentilmente cercando di dare alla camera un'apparenza abitabile. «Che gran sospiro per essere uscito dal cuore di un giovane!» «Trovate triste questa vecchia casa?» «Ebbene, per l'amor del cielo, affacciatevi alla finestra, e vedrete il sole scintillante come lo avete lasciato a Napoli!» Macchinalmente, Guasconti fece quel che la vecchia gli consigliava, ma non poté convenire con lei che a Padova il sole fosse allegro quanto nell'Italia meridionale. Pure, anche se più pallido, esso illuminava un giardino disteso sotto la finestra, che largiva ai suoi influssi vitali a una gran varietà di piante, che sembravano coltivate con estrema cura. «Questo giardino appartiene alla casa?» domandò Giovanni. «Dio ne scampi, signore! A meno che non producesse frutti o piante da vaso migliori di tutte le erbe che vi crescono in questo momento!» rispose la vecchia Elisabetta. «No, quel giardino è coltivato dalle mani del signor Giacomo Rappaccini, il famoso medico, di cui ne sono certa. Avrete sentito parlare fino a Napoli. Si dice che egli distilli da queste piante medicine che sono potenti come incantesimi. Spesso potrete vedere il dottore al lavoro, e talvolta anche la signora, sua figlia, raccogliere gli strani fiori che crescono nel giardino. La vecchia aveva fatto ormai tutto quel che poteva affinché la stanza avesse un aspetto più confortevole, e raccomandando il giovane alla protezione dei santi se ne andò. Giovanni non trovò migliore occupazione che guardare il giardino sotto la finestra. Dall'apparenza pensò che fosse uno di quegli orti botanici sorti a Padova prima che in ogni altra parte d'Italia o del mondo. Ma neanche era improbabile che un tempo fosse stato il luogo di piacere di una ricca famiglia. Al centro rimaneva il rudere di una fontana di marmo, scolpita con rara arte, ma in si deplorevole rovina, che era impossibile ricostruire il disegno originario dal caos dei frammenti rimasti. Eppure l'acqua continuava a sgorgare e a brillare al sole, più allegra che mai. Un leggero suono, gorgogliante, saliva fino alla finestra del giovane, dandogli l'impressione che la sorgente fosse uno spirito immortale che cantava la sua canzone senza soste e senza curarsi delle vicessitudini esterne, mentre un secolo gli dava corpo nel marmo e un altro spargeva al suolo il caduco ornamento. Tutti intorno allo stagno in cui l'acqua ricadeva crescevano varietà di piante che sembravano richiedere molta umidità per nutrire foglie gigantesche e, in alcuni casi, fiori di vistosa magnificenza. Soprattutto un arbusto che cresceva in un vaso di marmo in mezzo allo stagno era a calico di fiori rossi che avevano ognuno il colore luminoso e profondo di una gemma e la pianta tutta intera produceva tanto splendore da sembrare che bastasse da sola a illuminare il giardino, anche se non vi fosse stata luce del sole. Ogni zolla di terra era popolata di piante ed erbe che, seppur meno belle, mostravano ugualmente i segni di assidue cure, come se ognuna avesse le sue particolari virtù, note alla mente scientifica che le coltivava. Alcune crescevano in urne decorate di antiche sculture, altre invece in comuni vasi di terra cotta. Alcune strisciavano come serpi sul terreno o si arrampicavano verso l'alto, giovandosi di ogni appiglio che si offrisse per salire. Una pianta si era attorcigliata ad una statua di vertumno e ne rimaneva interamente velata e avvolta in un drappeggio di foglie, disposte in così felice maniera che uno scultore avrebbe potuto servirsene per uno studio. Mentre stava alla finestra, Giovanni udì un fruscio dietro a un paravento di foglie e si rese conto che qualcuno lavorava nel giardino. Poco dopo la persona uscì dal fogliame e mostrò di essere non un comune giardiniere, ma un uomo alto, emaciato, pallido e di aspetto malaticcio, vestito ad una nera zimarra da studioso. Si trovava ormai nella seconda metà della vita. Aveva capelli grigi, grigia la barbarada e un volto fortemente segnato da notevoli doti di intelligenza e di cultura, ma che mai, nemmeno negli anni più giovanili, poteva aver espresso molto calore di sentimento. Nulla potrebbe superare l'attenzione con cui quel giardiniere scientifico esaminava ogni arbusto sul suo cammino. Sembrava che ne scrutasse la più intima natura, studiando nell'essenza creativa e cercando di scoprire perché una foglia cresceva con questa e un'altra con quella forma e per quale ragione i fiori erano diversi uno dall'altro, nel colore e nel profumo. Ma nonostante un così profondo studio da parte sua, non vi era alcun tentativo di intimità fra lui e quelle esigenze vegetali. Al contrario, egli evitava di toccarle o di aspirarne il profumo con una cautela che produsse in Giovanni la più sgradevole impressione. L'uomo si comportava come chi cammini tra influssi maligni, quali bestie feroci o mortali serpenti o spiriti del male che, se lasciati liberi per un momento, avrebbero scatenato su lui qualche terribile fatalità. Uno strano timore entrò nella fantasia del giovane vedendo quella sensazione di insidia in una persona che coltivava un giardino, la più semplice e innocente delle umane occupazioni e che aveva pur rappresentato la gioia e insieme il lavoro dei comuni genitori prima del peccato originale. Quel giardino era dunque l'Eden del presente e quell'uomo che così vivamente percepiva il potere malefico di quel che le sue stesse mani avevano coltivato. Era forse il nuovo Adamo? Mentre staccava le foglie secche o potava gli arbusti troppo ricogliosi, il diffidente giardiniere si proteggeva le mani con un grosso paio di guanti né la sua armatura si limitava a questo. quando nel suo vagare per il giardino giunse alla magnifica pianta che lasciava pendere le sue gemme purpure vicino alla fontana di marmo si coprì la bocca e le narizzi con una specie di maschera come se tutta quella bellezza nascondesse solo un maleficio ancora più mortale. Ma trovando il suo compito ancora troppo rischioso si trasse indietro, si tolse la maschera e chiamò forte ma con la voce tremula di una persona minata da un male interno «Beatrice! Beatrice!» «Eccomi papà, che vuoi?» rispose una voce morbida e giovanile dalla finestra della casa di Rimpetto. «Una voce opulenta come un tramonto tropicale» e che fece pensare Giovanni sebbene egli non sapesse perché a profondi toni di porpora o cremisi o a deliziosi e inebrianti profumi «Sai in giardino?» «Sì, Beatrice!» rispose il giardiniere «e ho bisogno del tuo aiuto» poco dopo da sotto un portale scolpito uscì la figura di una fanciulla ornata con ricchezza di gusto come il più splendido dei fiori bella come il giorno e con un incarnato così profondo e vivido che un tocco di più sarebbe stato di troppo. Appariva esuberante di vita di salute e di energia ma tutte queste qualità erano come rattenute compresse e strettamente avvolte nella loro esuberanza da un aspetto virginale. Eppure qualche cosa di morboso aveva dovuto impossessarsi della fantasia di Giovanni mentre gli guardava il giardino perché l'impressione che gli fece la bella straniera fu come se fosse comparso un fiore la sorella umana di quei fiori vegetali non meno bella anzi più bella del più splendido di loro ma anch'essa da toccare solo con i guanti né da avvicinare senza una maschera. Mentre Beatrice scendeva lungo il sentiero si poteva notare che toccava e odorava molte delle piante che suo padre aveva evitato con maggior cura. Vieni Beatrice gli disse guarda di quante cure ha bisogno il nostro maggior tesoro ma rovinato come sono se mi avvicinassi quanto le circostanze richiedono potrai pagarlo con la vita. Credo che d'ora in poi questa pianta debba essere affidata alle tue cure. e sarò ben contenta dell'incarico e sclamò la voce piena della fanciulla mentre ella si chinava sulla magnifica pianta e apriva le braccia come per stringerla a sé. Sì sorella mia mio splendore sarà compito di Beatrice curarti e servirti e tu la ricompenserai coi tuoi baci e col tuo alito profumato che sono per lei come l'alito della vita. Allora con gesti pieni di quella tenerezza che aveva così stranamente manifestato nella parola ella si occupò di dare alla pianta quelle cure che le sembravano occorrerle e Giovanni dalla sua alta finestra si stropicciò gli occhi domandandosi se era una fanciulla che curava il suo fiore preferito o una sorella che prodigava il suo affetto a un'altra sorella. La scena finì presto sia che il dottor Rappaccini avesse terminato il suo lavoro nel giardino ossia che il suo occhio attento avesse scorto il viso dell'estraneo egli prese il braccio della figlia e si ritirò. Già calava la notte esalazioni opprimenti sembravano emanare dalle piante e salire furtive oltre la finestra aperta. Giovanni chiuse le imposte se ne andò a letto e sognò uno splendido fiore e una bella fanciulla fiore e fanciulla erano diversi eppure una cosa sola e sotto l'una o l'altra forma ugualmente carichi di uno strano pericolo. Ma vi è nella luce del mattino un influsso che tende a correggere qualsiasi errore di fantasia e perfino di giudizio in cui possiamo essere in corsi al tramonto del sole o nelle ombre della notte o sotto il meno salutare lume della luna. Il primo impulso di Giovanni appena sveglio fu di spalancare le finestre e di guardare il giardino che i suoi sogni avevano reso così fertile di mistero. Provò sorpresa e un po' di vergogna constatando che esso si presentava come una cosa assai reale e positiva mentre i primi raggi del sole che indoravano le gocce di rugiada posate su foglie e su fiori se davano una più luminosa bellezza a ognuna delle corolle rare riconducevano ogni cosa nei limiti della comune esperienza. Il giovane si rallegrò di avere nel cuore dell'arida città il privilegio di vedere dalla sua finestra quell'angolo di bella e lussurezzante vegetazione e pensò tra sé che esso sarebbe servito come un simbolico linguaggio a tenere il suo spirito in comunione con la natura. È vero che in quel momento nel malaticcio dottor Giacomo Rappaccini logorato dal pensiero e la sua bella figliuola erano visibili e perciò Giovanni non poteva stabilire quanta parte della stranezza che aveva attribuita ad ambedue fosse devuta alle loro particolari qualità e quanta alla fucina di meraviglie della sua fantasia ma si sentiva maggiormente portato a considerare tutta la cosa a lume di ragione. durante il giorno andò a rendere omaggio al signor Pietro Baglioni un medico di grande reputazione professore di medicina all'università per il quale Giovanni aveva una lettera di presentazione il professore era un uomo di una certa età di natura socievole e di modi che avrebbero quasi potuto dirsi gioviali trattenne il giovane a pranzo e si rese molto piacevole con la disinvoltura e la vivacità della sua conversazione specie dopo che si fu riscaldato con un fiasco o due di vino toscano Giovanni immaginando che i due scienziati dimoranti nella stessa città dovessero certamente essere amici colse la prima occasione per fare il nome del dottor Rappaccini ma il professore non rispose con tutta la cordialità che il giovane aveva previsto mal si converrebbe ad un maestro della divina arte della medicina disse il professor Baglioni in risposta a una domanda di Giovanni di rifiutare la debita e ben motivata l'ode di un medico di così eminente abilità come il dottor Rappaccini ma d'altra parte mi sentirai manchevole verso la mia coscienza se permettessi che un degno giovane come voi signor Giovanni figlio di un mio vecchio amico si formasse un concetto errato sul conto di un uomo cui potrebbe in seguito capitare di tenere nelle proprie mani la vostra vita e la vostra morte la verità è che il nostro venerando dottor Rappaccini è altrettanto abile come scienziato quanto ogni altro membro della facoltà ad eccezione forse di uno solo in Padova o in tutta Italia ma vi sono alcune gravi obiezioni da sollevare sul suo carattere professionale e quali sono chiese il giovane il mio amico Giovanni è forse malato nel corpo o nel cuore per mostrarsi così curioso nei riguardi dei medici chiese il professore con un sorriso quanto a Rappaccini si dice di lui ed io te lo conosco bene ne garantisco la verità che egli si preoccupi assai più della scienza che degli uomini i suoi pazienti lo interessano solo come soggetti di qualche nuovo esperimento egli sacrificherebbe la vita umana e la propria con le altre per poter aggiungere quanto un granello di senapa al gran cumulo della sua scienza mi sembra davvero un uomo terribile osservò Giovanni rammentando l'aspetto frigido ed esclusivamente cerebrale di Rappaccini eppure illustre il professore non è il suo un nobile spirito vi sono molti uomini mossi da un così spirituale amore della scienza Dio ce ne scampi dispose il professore un po' irritato a meno che non abbiano dell'arte di guarire un concetto più sano di quel che ne ha Rappaccini la sua teoria è che tutte le virtù curative sono racchiuse in quelle sostanze che noi chiamiamo veleni vegetali egli li coltiva con le sue mani e si dice perfino che sia riuscito a produrre nuove varietà di veleno ancor più orribilmente deleterie di quanto la natura senza l'aiuto di cotesto sapiente ne avrebbe mai avute per affliggere il mondo che il signor dottore faccia con si pericolose sostanze meno danno di quanto ci si potrebbe aspettare è innegabile e di tanto in tanto bisogna riconoscerlo ha ottenuto o è sembrato che ottenesse guarigioni meravigliose se debbo dirvi la mia opinione personale signor Giovanni egli merita poco credito per tali successi che sono probabilmente dovuti al caso ma si dovrebbe chiedergli stretto conto dei suoi insuccessi che si possono giustamente considerare opera sua il giovane avrebbe accettato queste opinioni con molte riserve se avesse saputo che da lungo tempo tra il professor Baglioni e il dottor Rappaccini esisteva una rivalità professionale in cui il secondo era generalmente ritenuto superiore se il lettore desiderasse giudicare da sé lo rimandiamo a certi opuscoli in caratteri gotici a favore dell'uno o dell'altro rivale conservati nella facoltà di medicina dell'università di Padova non so illustrissimo professore rispose Giovanni dopo aver riflettuto a quanto si era detto sul troppo esclusivo zelo del dottor Rappaccini per la scienza non so quanto quel medico abbia cara la sua arte ma vi è certamente un oggetto che gli è ancora più caro ha una figlia ah esclamò il professore con una risata ecco dunque svelato il segreto del nostro amico Giovanni avrete sentito parlare di questa figlia di cui tutti i giovani di Padova sono infatuati sebbene pochissimi abbiano avuto la fortuna di vederla in viso so ben poco della signora Beatrice ma dicono che Rappaccini l'abbia profondamente istruita nella sua scienza e che giovane e bella come ha fama di essere ella sia già in grado di occupare la cattedra di un professore forse il padre la destina al mio posto corrono poi sul suo conto altre voci assurde che non merita di riferire né ascoltare or su signor Giovanni finite il vostro bicchiere di lacrima Cristi Giovanni tornò al suo alloggio un po' riscaldato dal vino bevuto in abbondanza che gli faceva ondeggiare nel cervello strane fantasie riguardanti il dottor Rappaccini e la bella Beatrice lungo la via passando accanto a un fioraio comprò un mazzo di fiori freschi salito nella sua camera si sedette vicino alla finestra ma nell'ombra della stessa parete così da poter guardare nel giardino con poco rischio di essere scoperto sotto ai suoi occhi tutto era solitudine le strane piante si scaldavano al sole e di quando in quando si chinavano leggermente una verso l'altra quasi in espressione di simpatia e affinità nel mezzo presso la diruta fontana cresceva il magnifico arbusto coperto fittamente delle sue gemme purpuree splendevano nell'aria e rilucevano dal fondo dello stagno che sembrava così traboccare di una radiazione colorata del morbido riflesso che vi era immerso da prima come abbiamo detto il giardino era solitario ma presto secondo la speranza dal tempo stesso il timore di Giovanni una figura comparve sotto l'antico portale scolpito e si avanzò tra le file di piante chinandosi per aspirare gli odori quasi fosse uno di quegli esseri delle antiche favole classiche che si nutrivano di dolci profumi nel rivedere Beatrice il giovane trassalì constatando quanto la sua bellezza superasse il ricordo che egli ne aveva così fulgente così vivida era quella bellezza che la splendeva anche nei raggi del sole e come Giovanni mormorò a se stesso illuminava realmente i tratti più ombrezzati del sentiero il suo viso si poteva vedere meglio della prima volta e il giovane fu colpito dalla sua espressione di semplicità e di dolcezza qualità non ancora entrate nell'idea che egli si era fatto del suo carattere e che lo spinsero a domandarsi di nuovo che specie di creatura umana ella potessa essere ne mancò anche questa volta di notare o immaginare un'analogia tra la bella fanciulla e lo splendido arbusto i cui fiori pendevano simili a zemme sulla fontana una somiglianza cui Beatrice sembrava avesse avuto il capriccio di dare risalto sia con la foggia dell'abito che con la scelta dei colori avvicinandosi all'arbusto ella aprì le braccia quasi in un ardore appassionato e strinse a sé i rami in un intimo abbraccio così intimo che il suo volto fu nascosto nel profondo grembo e i suoi riccioli lucenti si mescolarono ai fiori dammi il tuo alito sorella mia esclamò Beatrice perché mi sento mancare nell'aria comune e dammi questo tuo fiore che io stacco con dita delicatissime dallo stelo e metto qui vicino al mio cuore così dicendo la bella figlia di Rappaccini colse uno dei più splendidi fiori dell'arbusto e si accinse ad appuntarselo sul seno ma a questo punto a meno che il vino bevuto non avesse sconvolto i sensi di Giovanni accadde uno strano incidente un piccolo rettile color d'arancio della specie delle lucertole o dei camaleonti strisciava in quel momento sul sentiero proprio ai piedi di Beatrice parve a Giovanni ma difficilmente dalla distanza in cui si trovava avrebbe potuto distinguere una cosa così minuta gli parve non di meno che una o due gocce dell'umore che gemeva dallo stelo reciso cadesse sul capo della lucertola per un istante il rettile si contorse con violenza poi rimase immobile sotto il sole Beatrice osservò lo strano fenomeno e ci fece il segno della croce con tristezza ma senza mostrare alcuna sorpresa ne esitò per questo ad appuntarsi sul petto il fiore fatale esso rosseggiava e quasi brillava con gli effetti abbaglianti di una pietra preziosa aggiungendo all'abito e all'aspetto della fanciulla un fascino che null'altro al mondo avrebbe potuto conferirle ma Giovanni uscito dall'ombra della finestra si sporse dal davanzale poi si ritrasse tremando e morborando sono odesto ho ancora l'uso della ragione si chiese cos'è mai quell'essere la chiamerò bella o indicibilmente terribile Beatrice vagando per il giardino giunse quasi sotto la finestra di Giovanni così da costringerlo a sporgere del tutto il capo fuori dal suo nascondiglio per soddisfare l'intensa e dolorosa curiosità che ella destava in quel momento un bell'insetto entrò nel recinto del giardino forse aveva vagato per tutta la città senza trovare un fiore o un po' di verde fra quelle vecchie tane degli uomini finché gli intensi profumi degli arbusti del dottor Rappaccini lo avevano allettato da lontano quella alata favilla non si posò sui fiori parve attratta da Beatrice e si indugiò nell'aria volteggiandole intorno al capo ma a questo punto Giovanni Guasconti fu certamente tratto in inganno dai suoi stessi occhi sia come si voglia gli parve che mentre la giovane lo guardava con infantile piacere l'insetto si affievolisse e le cadesse ai piedi le ali lucenti tremarono era morto senza un motivo che Giovanni potesse comprendere a meno che non fosse l'atmosfera del respiro di Beatrice di nuovo ella si segnò e sospirò profondamente mentre si chinava sull'insetto morto un movimento impulsivo di Giovanni richiamò lo sguardo della fanciulla verso la finestra e lì ella vide la bella testa del giovane una testa greca più che italiana con bei lineamenti regolari e un riflesso d'oro tra i capelli ricciuti che guardava in giù verso di lei come un essere sospeso nell'aria senza sapere quel che faceva Giovanni le gettò il mazzo di fiori che fino allora aveva tenuto in mano signora le disse ecco dei fiori puri e salubri portateli per amore di Giovanni Guasconti grazie signora rispose Beatrice con la sua voce piena che sgorgava come un zampillo di musica e con un'espressione gaia di bambina e di donna ad un tempo accetto il vostro dono e volentieri lo ricambierai con questo prezioso fiore purpureo ma se lo gettassi in aria non giungerebbe fin lassù perciò il signor Guasconti deve accontentarsi del mio grazie si chinò a raccogliere i fiori poi quasi vergognosa di aver abbandonato per un momento il suo virginale riservo per rispondere all'omaggio dello straniero attraversò rapidamente il giardino verso casa ma per brevi che fossero quei momenti parve a Giovanni che quando ella fu sul punto di scomparire sotto il portale scolpito il bel mazzo di fiori cominciasse già ad appassirle nelle mani pensiero sciocco a quella distanza non era assolutamente possibile distinguere un fiore appassito da uno fresco per molti giorni dopo questo incidente il giovane evitò la finestra che dava sul giardino del dottor Rappaccini come se qualcosa di brutto e mostruoso potesse accecarlo se egli si fosse lasciato indurre a gettarvi uno sguardo si rendeva conto che entrando in rapporti con Beatrice egli si era posto fino a un certo segno sotto l'influenza di un potere incomprensibile la cosa più saggia la cosa più saggia se il suo cuore era veramente in pericolo sarebbe stata di lasciare subito quella stanza e padova stessa oppure di abituarsi per quanto possibile a vedere Beatrice spesso e alla luce del giorno conducendole così inflessibilmente di proposito entro i limiti di una normale esperienza ma finché evitava di vederla la cosa meno consigliabile era di rimanere così vicino a quell'essere eccezionale in modo che la prossimità e perfino la possibilità di rapporti essero quasi corpo e realtà alle sfrenate fantasticherie che la sua immaginazione in tumulto generava continuamente Vasconti non aveva una intelligenza profonda o almeno non ne aveva ancora sondato la profondità ma possedeva una fantasia vivace e un ardente temperamento meridionale che di minuto in minuto saliva a un più alto grado di febbre possedesse Beatrice o no quei terribili attributi quella emanazione fatale un'affinità con quei bellissimi e mortali fiori come indicava quel che Giovanni aveva visto coi propri occhi il fatto è che ella aveva almeno instillato in lui un veleno potente e sottile non amore sebbene la florida bellezza di Beatrice lo inebriasse e nemmeno orrore sebbene egli ne immaginasse lo spirito imbevuto della stessa benefica essenza che sembrava pervadere il suo corpo ma uno strano prodotto dell'amore e dell'orrore insieme che aveva in sé la natura di ambe due ardendo come l'uno e rabbrividendo come l'altro Giovanni non sapeva che temere e ancora meno sapeva che sperare eppure speranza e timore combattevano nel suo petto una continua battaglia vincendosi l'un l'altro con alterna vicenda e risorgendo per rinnovare la lotta beate le emozioni semplici siano esse oscure o luminose è dal sinistro mescolarsi di luce e tenebra che nasce il bagliore delle regioni infernali talvolta cercava di calmare la febbre del suo spirito con una rapida passeggiata per le vie di Padova o fuori di porta il ritmo dei passi seguiva il palpito del suo cervello e così poteva accadere che la passeggiata si mutasse in una corsa un giorno si sentì fermare il braccio gli fu afferrato da un signore corpulento che nel riconoscere il giovane era tornato indietro facendosi venire l'affanno per raggiungerlo signor Giovanni fermatevi il mio giovane amico esclamò mi avete dimenticato sarebbe davvero possibile che io fossi cambiato quanto voi era Baglioni che Giovanni aveva sempre evitato dopo il loro primo incontro nel dubbio che la sagaccia del professore sapesse vedere troppo a fondo i suoi segreti cercando di riprendersi il giovane sgranò stralunato gli occhi dal suo mondo interno a quello esterno e parlò come in un sogno sì sono Giovanni guasconti voi siete il professor Pietro Baglioni ora lasciatemi andare non ancora non ancora signor Giovanni guasconti disse il professore sorridendo ma al tempo stesso scrutando il giovane con occhio attento come sono cresciuto vicino a vostro padre e suo figlio deve passarmi accanto per la strada di questa vecchia padova come un estraneo aspettate signor Giovanni dobbiamo scambiare qualche parola prima di separarci presto dunque illustre professore presto disse Giovanni con febbrile impazienza vostra signoria non si accorge che ho molta fretta mentre gli parlava un uomo vestito di nero venne avanti per la strada curvo con un passo malfermo come di persona in cattiva salute il suo volto era coperto ad un colore pallido e malato eppure esprimeva un'intelligenza così attiva e penetrante che un osservatore avrebbe potuto con facilità trascurare le caratteristiche puramente fisiche per vedere soltanto quella meravigliosa energia passando egli scambiò con baglioni un saluto freddo e distante ma fissò su Giovanni uno sguardo così intenso che parve portare in luce tutto quel che in lui meritava di essere notato non di meno quello sguardo aveva una particolare calma come se il giovane suscitasse in lui interesse puramente speculativo non umano è il dottor Rappaccini sussurrò il professore quando il passante si fu allontanato vi aveva mai visto prima che io sappia no rispose Giovanni trassalendo a quel nome vi ha visto deve avervi visto disse baglioni precipitosamente per una ragione o l'altra quell'uomo di scienza vi sta studiando conosco quel suo modo di guardare è il medesimo che illumina a freddo il suo volto quando si china su un uccello un topo o una farfalla che per compiere qualche esperimento egli ha ucciso col profumo di un fiore uno sguardo profondo come la stessa natura ma che della natura non ha il caldo amore signor Giovanni ci scommetterei la vita voi siete il soggetto di uno degli esperimenti di Rappaccini volete prendermi in giro esclamò appassionatamente Giovanni questo signor professore sarebbe un esperimento fuori luogo calma calma replicò l'imperturbabile professore io vi dico mio povero Giovanni che Rappaccini si interessa scientificamente di voi siete caduto in mani terribili e la signora Beatrice che parte ha nel mistero a questo punto Guasconti che trovava insopportabile la pertinaccia dell'altro ruppe gli indugi ed era già lontano prima che il professore potesse riafferrarlo per un brazzo Baglioni si volse a guardare con aria preoccupata il giovane che si allontanava e scosse il capo questo non deve accadere disse tra sé il giovane figlio di un mio vecchio amico e non deve subire alcun male da cui i misteri della scienza medica possano preservarlo e poi è un'impertinenza troppo intollerabile da parte di Rappaccini strapparmi per così dire quel ragazzo dalle mani e servirsene per i suoi infernali esperimenti e quella sua figlia è una faccenda di cui devo occuparmi forse lottissimo Rappaccini saprà battervi dove meno ve lo aspettate intanto Giovanni seguiva un percorso tortuoso e si trovò finalmente alla porta del suo alloggio mentre vercava la soglia incontrò la vecchia Elisabetta tutta smorfie e sorrisi che evidentemente desiderava richiamare la sua attenzione ma non vi riusciva il subbuglio dei sentimenti di Giovanni si era momentaneamente calmato cedendo il posto a una fredda e pesante indifferenza volse gli occhi verso il volto vizio che si raggrinziva in un sorriso ma non sembrò guardarlo allora la vecchia lo afferrò per il mantello signore signore bispegliò ancora con un sorriso largo quanto la faccia così da somigliare a una grottesca maschera di legno scurita dai secoli sentite signore vi è un ingresso privato nel giardino che dite esclamò Giovanni volgendosi bruscamente come una cosa inanimata che si destasse a una vita febbrile un ingresso privato nel giardino del dottor Rappaccini non così forte sussurrò Elisabetta mettendogli una mano sulla bocca sì nel giardino dell'illustre dottore dove potete vedere tutte le sue bellissime piante molti giovani di Padova pagherebbero qualunque cosa per poter entrare fra quei fiori Giovanni le mise in mano una moneta d'oro mostratemi la via disse gli balenò il dubbio suscitato probabilmente dalla conversazione con Baglioni che l'intervento della vecchia Elisabetta avesse un rapporto con l'intrigo con cui il professore sembrava supporre che Rappaccini volesse coinvolgerlo ma tale sospetto sebbene lo turbasse non bastò a trattenerlo dal momento in cui intravvide la possibilità di avvicinare Beatrice questo incontro gli parve un'assoluta necessità della sua esistenza non importava che la fosse angelo o demonio era ormai irrevocabilmente in suo potere e doveva ubbidire alla legge che lo spingeva in cerchi sempre più stretti verso un risultato che egli non cercava nemmeno di prevedere eppure strano a dirsi gli valenò il dubbio improvviso che quel suo intenso interesse fosse ingannevole ne avesse veramente un carattere così profondo e reale da giustificare quel suo cacciarsi in una situazione piena di incognite se fosse soltanto il capriccio di un giovane cervello e il cuore avesse poco o nulla a che vedervi si fermò esitante fu per tornare sui suoi passi ma poi andò avanti la sua guida grinzosa lo condusse per parecchi corridoi oscuri e finalmente aprì la porta da cui a un tratto apparvero e si udirono frusciare fogliami in mezzo ai quali lucevano raggi di sole Giovanni si spinse avanti e aprendosi la via tra il groviglio di una pianta che attorcigliava i suoi vitici all'ingresso nascosto si trovò sotto la propria finestra sullo spiazzo del giardino del dottor Rappaccini spesso accade che quando le impossibilità sono state superate e la materia nebulosa dei sogni si è condensata in tangibili realtà ci troviamo calmi e perfino freddamente padroni di noi in circostanze che a immaginarle ci avrebbero dato un delirio di gioia o di angoscia il destino si diverte a contradiarci così la passione sceglie il momento per il rompere sulla scena e rimanere pigramente indietro quando un appropriato concorso di circostanze sembrerebbe richiederne la presenza così accadde a Giovanni per giorni e giorni il sangue gli aveva pulsato febbrilmente nelle vene all'improbabile idea di avere un colloquio con Beatrice di starle dinanzi a viso a viso in quel medesimo giardino riscaldandosi al sole orientale della sua bellezza e cogliendo nel suo sguardo diretto il mistero che gli considerava l'enigma della propria esistenza ma una calma strana e intempestiva regnava in quel momento nel suo cuore volse uno sguardo intorno per vedere se Beatrice o suo padre si trovasse nel giardino e accorgendosi di essere solo cominciò ad osservare con occhio critico le piante aspetto di tutte e di ognuna gli spiacque la loro magnificenza appariva violenta appassionata persino innaturale non vi era arbusto di fronte al quale un viandante ferrando solitarie in una foresta non avrebbe trasalito nell'incontrarlo allo stato selvatico come se un volto non umano lo fissasse dal fitto dei cespugli parecchi anche avrebbero urtato un istinto sensibile con un'apparenza di artificio indizi di un mescolamento direi quasi di un adulterio di varie specie vegetali da rendere il risultato non più opera di dio ma il mostruoso rampollo della fantasia depravata dell'uomo splendente solo di una malefica imitazione della bellezza erano probabilmente frutto di esperimenti che in qualche caso avevano potuto mescolare piante di per sé belle in un incrocio che possedeva il carattere discutibile e sinistro proprio di tutta la flora del giardino giovanni infine non riconobbe in tutta la raccolta che due o tre piante e di una specie che sapeva velenosa mentre era così intento a quelle osservazioni udì il fruscio di una veste di seta e volgendosi vide Beatrice uscire dal portale scolpito giovanni non aveva pensato a un modo di comportarsi se dovesse chiedere scusa della sua intrusione o supporre di trovarsi nel giardino almeno col segreto consenso se non per desiderio del dottor Rappaccini o di sua figlia ma i modi di Beatrice lo misero a suo agio pur lasciandolo ancora in dubbio sull'identità della persona che gli aveva consentito di entrare e la venne giù per il sentiero con passo lieve e lo raggiunse vicino ai ruderi della fontana e si vedeva in volto la sorpresa ma illuminata da una gentile espressione di piacere voi ve ne intendete di fiori signore disse Beatrice con un sorriso alludendo al mazzo che egli le aveva gettato dalla finestra non fa meraviglia perciò che la rara collezione di mio padre gli abbia dato la tentazione di osservarla da vicino se egli fosse qui potrebbe raccontarvi molti fatti strani e interessanti sulla natura e i costumi di queste piante ha dedicato tutta la sua vita dagli studi e questo giardino è il suo mondo e voi stessa signora osservò Giovanni se a quanto si dice è vero siate anche voi una profonda conoscitrice delle virtù di cui sono indizio questi splendidi di fiori e questi aromatici profumi se voleste degnarvi di essere la mia maestra mi dimostrerai discepolo migliore che se fosse istruito dal signor Rappaccini in persona corrono davvero così sciocche voci chiese Beatrice con la musica di un gaio sorriso la gente dice che io sono versata nella scienza di mio padre che scherzo no sebbene è cresciuta in mezzo a questi fiori non ne conosco che il colore e il profumo e talvolta credo che mi libererai volentieri anche di questa piccola scienza vi sono qui molti fiori e non i meno splendenti che mi urtano e mi offendono quando vi poso lo sguardo ma vi prego signore non prestate fede a queste chiacchiere sulla mia scienza non credete nulla di me se non quel che vedete coi vostri occhi e devo credere a tutto quello che ho visto coi miei occhi chiese Giovanni calcando le parole mentre il ricordo delle scene vedute lo faceva trarre indietro no signora mi chiedete troppo poco ordinatemi di credere soltanto a quel che udrò dalle vostre labbra parve che Beatrice lo avesse capito un vivo rossore le coprì le guance ma fissò Giovanni negli occhi e ricambiò il suo sguardo di imbarazzato sospetto con fierezza regale e così vi prego di fare signore replicò dimenticate tutto quel che avete potuto immaginare nei miei riguardi anche se vero per i sensi esteriori potrebbe essere falso nella sua essenza ma le parole di Beatrice Rappaccini sono sincere dal più profondo del cuore fino alle labbra che le profferiscono a quelle potete credere in tutta la sua persona ardeva un fervore che raggiava sulla coscienza di Giovanni come la luce della stessa verità ma mentre ella parlava l'aria intorno a lei era impregnata di una fragranza intensa e gradevole sebbene evanescente che pure il giovane per una indefinibile riluttanza osava appena respirare forse era l'odore dei fiori poteva mai essere il respiro di Beatrice a profumare così le sue parole con una strana intensità quasi le avesse intrise nel suo cuore un langore passò come un'ombra su Giovanni subito dissipandosi gli parve di guardare attraverso i begli occhi della fanciulla nella sua anima trasparente e non provò più dubbio né timore la sfumatura di passione che aveva colorato i modi di Beatrice scomparve e la divenne gaia e sembrò che dai suoi rapporti col giovane traesse un puro godimento non dissimile dal piacere che la fanciulla di un'isola solitaria proverebbe nella conversazione con un viaggiatore giunto dal mondo civile si vedeva chiaramente che la sua esperienza della vita era stata limitata dentro i confini di quel giardino ora parlava di cose semplici come il giorno o le nuvole dell'estate ora faceva domande sulla città o sulla casa lontana di Giovanni sui suoi amici sua madre le sue sorelle domande che erano indizio di un'esistenza così reclusa di una tale mancanza di familiarità con modi e forme della vita che Giovanni le rispondeva come a un bambino il suo spirito sgorgava dinanzi a lui come un fresco ruscello che veda per la prima volta la luce del sole e si meraviglia della terra e del cielo riflessi nel suo seno nascevano anche pensieri da una sorgente profonda e fantasie ed uno scintillio di gemme come se diamanti e rubini salissero a sfavillare tra le bolle della sorgiva di quando in quando balenava nella mente del giovane un senso di meraviglia nel trovarsi a passeggiare accanto all'essere che gli aveva tanto infiammato la fantasia che egli aveva idealizzato con i colori del terrore in cui aveva effettivamente assistito al manifestarsi di terribili qualità nel conversare con lei come un fratello trovandola così umana e così virginale ma con queste riflessioni erano solo momentanee l'effetto del carattere di Beatrice era troppo reale per non rendersi subito familiare così liberamente intrattenendosi avevano vagato per il giardino e dopo molti giri per i viali erano giunti alla diruta fontana presso cui cresceva la magnifica pianta col suo tesoro di fiori splendenti diffondeva un profumo che Giovanni riconobbe identico all'altro da lui attribuito all'alito di Beatrice ma incomparabilmente più forte e gli vide la fanciulla quando lo sguardo le cadde sulla pianta premersi una mano sul petto come se a un tratto il suo cuore sussultasse dolorosamente per la prima volta in vita mia te ho dimenticato mormorò rivolgendosi all'arbusto rammento signora disse Giovanni che una volta mi prometteste di compensarmi con una di queste viventi gemme per il mazzo di fiori che ebbi il felice ardire di gettare ai vostri piedi permettetemi ora di coglierla come ricordo di questo incontro fece un passo verso l'arbusto con la mano tesa ma Beatrice si slanciò avanti con un grido che gli attraversò il cuore come un pugnale e ferrandogli la mano lo trassa indietro con tutta la forza della sua esile persona a quel contatto Giovanni trassalì in ogni fibra non toccarlo esclamò con voce angosciata ne va della tua vita è fatale poi nascondendosi il volto fuggì e scomparve sotto il portale scolpito Giovanni la seguì con gli occhi e vide la figura emaciata il pallido volto intellettuale del dottor Rappazzini che nell'ombra dell'ingresso osservava chissà da quanto tempo la scena appena Guasconti fu di nuovo solo nella sua camera l'immagine di Beatrice tornò nelle sue appassionate meditazioni rivestita di tutta la magia che le si era mano a mano raccolta intorno dal primo istante in cui egli l'aveva vista e imbevuta ormai del tenero calore di una giovanile femminilità ella era umana la sua natura possedeva tutte le qualità gentili e femmine era degna di essere adorata e di certo poteva provare in sé l'altezza e l'eroismo dell'amore quegli indizi che fino allora egli aveva considerato prove di uno spaventoso carattere particolare del suo essere fisico e morale furono dimenticati o trasferiti dalla sottile sofistica della passione a una dorata aureola d'incantesimo che rendeva Beatrice tanto più ammirevole quanto più unica tutto quel che era sembrato brutto divenne bello o se inetto a una tale metamorfosi si nascose tra quelle vaghe idee informe che affollano la neburosa regione oltre la luce solare della nostra piena coscienza trascorse così la notte e non si addormentò che quando l'alba ebbe cominciato ad estare i fiori assopiti nel giardino del dottor Rappaccini dove Giovanni fu certamente condotto dai suoi sogni sorse al suo giusto tempo il sole e settando i suoi raggi sulle palpebre del giovane lo svegliò a un senso di sofferenza quando fu del tutto destro si accorse di un bruciore e un pizzicore alla mano alla mano destra la stessa che Beatrice aveva ferrato nella sua quando egli stava per cogliere una di quei gemme ai fiori sul dorsa della mano vi era l'impronta purpurea come di quattro piccole dita e sul polso si vedeva l'immagine di un esile pollice oh con quanta ostinazione l'amore o anche solo quell'ingegnosa parvenza dell'amore che fiorisce nella fantasia ma non mette radici profonde nel cuore con quanta ostinazione conserva la sua fede finché non giunge il momento in cui esso è destinato a svanire in una nebbia sottile giovanni si avvolse un fazzoletto intorno alla mano domandandosi quale cosa maligna lo avesse punto e subito si dimenticò il suo male sognando di Beatrice dopo quel primo incontro un secondo fu il corso inevitabile di quel che noi chiamiamo il destino un terzo un quarto e vedere Beatrice nel giardino non fu più un incidente nella vita quotidiana di Giovanni ma il solo tempo in cui si potesse dire che egli viveva il resto non era che attesa e ricordo di quell'ora di estasi né accadeva altrimenti alla figlia di Rappaccini spiava l'arrivo del giovane e gli volava incontro con la stessa piena fiducia che se fossero stati compagni di gioco fin dall'infanzia come se tali fossero ancora se per un caso insolito egli non arrivava allora stabilita Beatrice veniva sotto la sua finestra e il tono dolce e pieno della sua voce saliva a fluttuarli intorno nella camera e gli risuonava in fondo al cuore Giovanni Giovanni perché tardi scendi egli si affrettava a scendere in quell'eden di fiori velenosi ma nonostante la stretta familiarità rimaneva nel contegno di Beatrice un riserbo così rigido e costante che a Giovanni quasi non veniva in mente di violarlo era chiaro da tutti i segni esteriori che essi si amavano avevano espresso l'amore con occhi che comunicavano il sacro segreto dal più profondo di un'anima al profondo dell'altra quasi troppo sacro per essere bisbigliato lungo il tragitto avevano anche parlato d'amore in quegli impeti di passione quando i loro spiriti davveggiavano in articolato respiro come lingue di fiamma lungamente covata eppure non vi era stato sigillo di labbra non stretta di mano né la più lieve delle carezze quali l'amore reclama e santifica egli non aveva mai toccato uno dei lucenti riccioli di Beatrice mai le sue vesti tanto netta era tra loro la barriera fisica avevano sfiorato Giovanni mosse dalla brezza e le rare volte in cui egli aveva tentato di varcare quel limite Beatrice si faceva così triste così rigida prendeva un'espressione di così desolata distanza che la brividiva di sé da rendere superfluo ogni parola per reprimere la tentazione in quei momenti egli trasaliva per gli orribili sospetti che si levavano come mostri dalle caverne del suo cuore e lo fissavano negli occhi il suo amore si faceva allora evanescente e impalpabile come nebbia mattutina di consistente non rimanevano che i suoi dubbi ma appena il volto di Beatrice si illuminava di nuovo dopo l'ombra passezzera quell'essere misteriosa in fido che gli aveva guardato con tanto terrore e orrore si trasformava all'istante essa tornava ad essere la bella e pura fanciulla che egli sentiva nel suo spirito di conoscere con una certezza al di là di ogni altra conoscenza parecchio tempo era ormai trascorso dall'ultimo incontro di Giovanni con Baglioni ma una mattina egli ebbe la sgradevole sorpresa ad una visita del professore cui non aveva pensato da intere settimane e che volentieri avrebbe dimenticato per un tempo anche più lungo in preda come era ormai da tanto a un'ebbrezza di tutto al suo essere Giovanni non poteva tollerare compagni a meno che non provassero piena simpatia per il suo stato d'animo e dal professor Baglioni tale simpatia non era da aspettarsi per qualche minuto il visitatore parlò con non curanza dei pettegolezzi cittadini e dell'università poi passò a un altro argomento ho letto ultimamente un vecchio autore classico disse e mi sono imbattuto in un racconto che mi ha stranamente interessato forse ve lo ricordate è la storia di un principe indiano che inviò una bella donna in dono ad Alessandro il Grande la donna aveva la grazia dell'aurora e lo splendore del tramonto ma quel che la distingueva in modo speciale era un certo delicato profumo del suo alito più delizioso del profumo di un rosetto di Persia Alessandro come era naturale in un giovane conquistatore si innamorò a prima vista della bellissima straniera un saggio medico che per caso si trovava presente scoprì un terribile segreto sul conto della donna e qual era chiese Giovanni abbassando gli occhi per evitare lo sguardo del professore che quella creatura continuò Baglioni con enfasi era stata nutrita di veleni fin dalla nascita al punto che tutta la sua persona se ne trovava così satura da essere divenuta lei stessa il più potente dei veleni il veleno era l'elemento della sua vita con l'inebriante profumo del suo respiro e la intossicava perfino l'aria il suo amore sarebbe stato veleno il suo amplesso morte non è un racconto meraviglioso una favola da bambini rispose Giovanni alzandosi nervosamente dalla sedia mi meraviglio che tra studi più seri vostra signoria trovi il tempo di leggere simili sciocchezze a proposito continuò Baglioni guardandosi intorno con espressione di disagio cos'è questa strana fragranza nella vostra camera è il profumo dei vostri guanti è leggero ma delizioso eppure in fondo non è affatto gradevole credo che se lo respirassi a lungo mi farebbe male sembra il profumo di un fiore ma non vedo fiori nella stanza non ve ne sono infatti rispose Giovanni che era impallidito mentre il professore parlava e non vi è che io sappia nessun profumo se non nell'immaginazione di vostra ignoria gli odori non sono che una specie di elemento in cui si combinano i sensi e lo spirito e possono perciò ingannarci il ricordo o anche la sola idea di un profumo possono facilmente essere scambiati per una realtà presente già ma la mia immaginazione tranquilla non mi fa spesso di questi scherzi osservò Baglioni e poi se mai dovesse immaginare un odore sarebbe quello di una vile droga speziale di cui è probabile che le mie dita siano impregnate il nostro merito amico il dottor Rappaccini profuma i suoi rimedi a quanto ho sentito dire con odori più deliziosi degli aromi d'arabia senza dubbio anche la bella e colta signora Beatrice amministra ai suoi pazienti droghe profumate come un alito di vergine ma guai a chi le assaggia il volto di Giovanni rispecchiava molte contrastanti emozioni il tono con cui il professore alludeva alla pure bella figlia di Rappaccini era una tortura per la sua anima eppure sentirsi suggerire un'interpretazione del carattere di Beatrice opposta alla propria diede immediatamente precisi contorni a mille vaghi sospetti che gli stettero dinanzi ghignando come altrettanti demoni ma egli lottò energicamente per soffocarli e rispondere a baglioni con la fede perfetta di un sincero amante signor professore cominciò voi eravate amico di mio padre forse è vostra intenzione fare la parte dell'amico anche verso il figlio desidero non provare per voi che rispetto e deferenza ma vi prego di notare signore che vi è un argomento di cui non dobbiamo parlare voi non conoscete la signora Beatrice non potete perciò comprendere quale insulto dirai quasi bestemmia sia una parola banale o ingiuriosa contro il suo carattere Giovanni mio povero Giovanni rispose il professore con una calma espressione di pietà conosco quella sventurata fanciulla assai meglio di voi dovete ascoltare la verità sul conto di quella avvelenatore di Rappaccini e della benefica sua figlia sì benefica quanto bella ascoltate poiché se anche faceste violenza ai miei capelli grigi io non tacerei quella vecchia favola della donna indiana è divenuta realtà per opera della profonda e mortifera scienza di Rappaccini nella persona della bella Beatrice Giovanni ebbe un gemito e si nascose il volto l'affetto naturale continuò Baglioni non ha saputo trattenere suo padre dall'offrire in questo modo orribile la figlia in olocausto al suo insano zelo per la scienza poiché rendiamogli questa giustizia egli è il più vero uomo di scienza che mai abbia distillato il proprio cuore in un alambicco quale sarà dunque il vostro destino non vi è dubbio che siete stato scelto come soggetto di qualche nuovo esperimento il risultato sarà forse la morte forse un destino ancora più terribile Rappaccini non vedendo se non quel che chiama l'interesse della scienza non esiterà davanti a nulla è un sogno mormorò Giovanni tra sé certo è un sogno ma state di buon animo figliuolo del mio amico riprese il professore non è ancora troppo tardi per salvarvi forse possiamo anche riuscire a ricondurre quella misera fanciulla nei limiti della comune natura da cui la follia di suo padre l'ha estraniata guardate questo piccolo vaso d'argento fu lavorato dalle mani del famoso benvenuto Cellini ed è un dono d'amore degno della più bella dama d'italia ma il suo contenuto è inestimabile un piccolo sorso di questo antidoto avrebbe reso innocuo il più potente veleno dei borgia esso sarà di certo altrettanto efficace contro i veleni di rappaccini donate il vasetto e il prezioso liquido alla vostra beatrice e attendete fiducioso il risultato baglioni posò sulla tavola una piccola fiale d'argento squisitamente lavorata e se ne andò lasciando che le sue parole producessero il loro effetto sulla mente del giovane riusciremo pure a sconfiggere rappaccini pensò ridendo fra sé mentre scendeva le scale ma confessiamo la verità è un uomo meraviglioso davvero meraviglioso non di meno nella pratica è un abietto sperimentatore e perciò non tollerabile per chi rispetta le buone regole antiche della medicina fin da quando aveva conosciuto Beatrice Giovanni era stato di tanto in tanto ossessionato come abbiamo detto da oscuri dubbi sulla natura della fanciulla eppure ella gli aveva dato la sensazione così profonda d'essere una creatura semplice naturale affettuosa e senza infingimenti che l'immagine presentata dal professor Baglioni gli sembrava strana e incredibile come se non fosse in armonia col suo concetto originario vi erano è vero brutti ricordi connessi con le prime volte in cui l'aveva veduta egli non riusciva a dimenticare del tutto il mazzo di fiori che l'era appassito tra le mani né l'insetto morto nell'aria assolata senza motivo visibile se non il profumo dell'alito di Beatrice ma questi incidenti dissolvendosi nella pura luce del carattere della fanciulla non avevano più l'efficacia di fatti erano considerati erronee fantasie quale che fosse la testimonianza dei sensi su cui poteva sembrare che poggiassero vi è qualcosa di più vero e più reale di quel che possiamo vedere con gli occhi e toccare con la mano e su queste più valide prove Giovanni aveva fondato la sua fiducia sebbene costretto dalla forza delle alte qualità di Beatrice più che per una profonda e generosa fede da parte sua ma ora il suo spirito non poteva mantenersi all'altezza cui il primo entusiasmo della passione lo aveva innalzato ed egli ricadde e giacque fra dubbi terreni profanando così il puro candore dell'immagine di Beatrice non che rinunciasse a lei ma diffidò risolse di tentare una prova decisiva che lo accertasse una volta per tutte se nella natura fisica della fanciulla vi erano quelle terribili caratteristiche la cui esistenza non si poteva supporre senza una corrispondente mostruosità dell'anima i suoi occhi guardando dall'alto a distanza potevano averlo ingannato riguardo alla lucertola all'insetto ai fiori ma se avesse potuto assistere a distanza di pochi passi all'improvviso a passire di un fiore fresco e vitale tra le mani di Beatrice non sarebbe più rimasto alcun dubbio con quest'idea corse dal fioraio e comprò un mazzo di fiori ancora ingemmato di rugiada mattutina era ormai giunta l'ora del suo quotidiano incontro con Beatrice prima di scendere in giardino Giovanni non mancò di guardarsi allo specchio vanità comprensibile in un bel giovane ma che manifestandosi in quel momento di febbrile agitazione dimostrava una certa superficialità di sentimento e insincerità di carattere si osservò e disse tra sé che mai i suoi lineamenti avevano avuto tanta grazia nei suoi occhi tanta vivacità nelle sue guance un così caldo colore di vitalità traboccante almeno pensò il suo veleno non si è ancora insinuato in me non sono io fiore da appassire nella sua stretta così pensando posò lo sguardo sul mazzo che aveva sempre tenuto in mano un brivido di indefinibile orrore lo attraversò nell'accorzesi che quei fiori rugiadosi cominciavano già a languire avevano l'aspetto di fiori che fossero stati freschi e belli il giorno innanzi Giovanni divenne bianco come il marmo e rimase immobile dinanzi allo specchio guardando la propria immagine come si guarda una cosa spaventevole ricordò l'osservazione di Baglioni sul profumo di cui tutta la stanza sembrava impregnata doveva essere il veleno nel suo alito allora rabbrividì rabbrividì di se stesso riavutoci dallo stupore cominciò ad osservare con curiosità un ragno occupato ad essere la tela dall'antico cornicione del soffitto attraversando su e giù l'ingegnoso sistema di fili intrecciati il ragno più vigoroso e attivo che mai sia stato sospeso da un vecchio soffitto Giovanni si chinò verso l'insetto ed emise un lungo e profondo respiro il ragno interruppe bruscamente la fatica la tela vibrò ad un tremito nato dal corpo del piccolo artigiano Giovanni emise un altro respiro più profondo più lungo e saturo d'un sentimento velenoso scaturito dal suo cuore non sapeva se fosse malvagio o soltanto disperato il ragno agitò convulsamente le zampe e rimase appeso nel vano della finestra senza vita maledetto maledetto mormorò Giovanni rivolgendosi a se stesso sei diventato così velenoso che questo insetto mortale può perire del tuo respiro in quel momento una voce calda e dolce salì dal giardino Giovanni Giovanni d'ora è passata perché tardi vieni giù sì mormorò di nuovo Giovanni è l'unico essere che il mio respiro non può uccidere così potesse corse giù e in un istante si trovò dinanzi gli occhi luminosi e innamorati di Beatrice un minuto prima la sua rabbia e la sua disperazione erano così brucianti che nulla egli avrebbe desiderato quanto di far avvizzire la fanciulla con uno sguardo ma con la sua presenza si ridestarono influssi che avevano una vita troppo reale per scuoterli via da sé in un tratto ricordi del delicato e benigno potere della sua natura femminile che così spesso lo aveva avvolto in una calma religiosa ricordi di tante pure appassionate effusioni del suo cuore quando la limpida fonte si era dissugellata dal profondo rivelandosi nella sua trasparenza allo sguardo spirituale di Giovanni ricordi che se egli avesse saputo considerarli nel suo giusto valore gli avrebbero dato la certezza che quel brutto mistero era solo un'illusione terrena e che per quanto ombra di male sembrasse adunarlesi sul capo la vera Beatrice era un angelo celeste ma sebbene non sapesse elevarsi a una fede così alta la presenza della fanciulla non aveva del tutto perduto il suo potere magico la collera di Giovanni si calmò in una specie di cupa indifferenza con vigile senso spirituale Beatrice sentì subito tra loro un abisso di tenebre che né lui né lei avrebbero potuto avarcare passeggiarono insieme tristi e silenziosi e giunsero così alla fontana di marmo e allo stagno nel cui centro cresceva la pianta dai fiori simili a gemme Giovanni notò con spavento l'avido piacere quasi l'appetito con cui si sorprese ad aspirare il profumo dei fiori Beatrice chiese bruscamente da dove proviene questo arbusto l'ha creato mio padre dispose con semplicità la fanciulla creato creato ripete Giovanni che intendi dire Beatrice mio padre ha una straordinaria conoscenza dei segreti della natura replicò Beatrice e nell'ora in cui io trassi il mio primo respiro questa pianta spuntò dal suolo frutto della sua scienza del suo intelletto mentre io ero la sua creatura terrena non ti avvicinare continuò osservando con terrore che Giovanni si accostava di più all'arbusto a qualità che non immagini nemmeno ma io mio caro Giovanni io sono cresciuta e ho prosperato con questa pianta e sono stata nutrita dalla sua fragranza era la mia sorella e l'amavo di affetto umano perché ahimè non l'hai mai sospettato pesava su di me un terribile destino a questo punto Giovanni aggrottò le ciglia e la guardò con un volto così scuro che Beatrice si interruppe tremando ma la sua fede nella tenerezza del giovane la rassicurò e la fece arrossire di aver dubitato per un solo istante pesava su di me un terribile destino continuò effetto del fatale amore di mio padre per la scienza che mi estraneava dalla compagnia dei miei simili finché il cielo non mandò te Giovanni carissimo oh com'era sola la tua povera Beatrice era un destino crudele chiese Giovanni fissandola negli occhi solo di recente ho capito quanto fosse crudele e la rispose teneramente oh sì ma il mio cuore era addormentato e perciò tranquillo la rabbia di Giovanni irruppe dalla sua cupa tristezza come un lampo da una nuvola nera maledetta esclamò con acre ira e disprezzo e trovando noiosa la tua solitudine hai separato anche me da tutto il calore della vita e mi hai adescato nel tuo mondo di indicibile orrore Giovanni esclamò Beatrice volgendo verso di lui i suoi occhi luminosi la forza delle parole udite non si era ancora fatta strada nella sua mente e la rimase da prima fulminata sì essere velenoso ripete Giovanni fuori di sé dall'ira hai fatto questo mi hai corrotto hai riempito il mio sangue di veleno hai fatto di me una creatura odiosa brutta disgustosa e mortifera come te una meraviglia di ripugnante mostruosità e ora se il nostro respiro è per nostra fortuna fatale a noi stessi come agli altri non ci resta che giungere le nostre labbra in un bacio di inesprimibile odio e morire così che cosa mi è accaduto mormorò Beatrice con un debole lamento sgorgato dal cuore vergine santa abbi pietà di me povera creatura dal cuore spezzato tu tu preghi gridò Giovanni col medesimo diabolico disprezzo le tue stesse preghiere nell'uscire dalle tue labbra infettano l'aria di morte sì sì preghiamo andiamo in chiesa e alla porta bagniamo le dita nell'acqua benedetta chi vi si accosterà dopo di noi morrà come per una pestilenza facciamo segni di croce nell'aria sarà uno spargere intorno maledizioni in sembianze di simboli sacri Giovanni disse Beatrice con calma in un dolore troppo grande per l'ira perché unici così il tuo nome col mio in queste orribili parole io è vero io sono l'orribile cosa che dici ma tu che altro devi fare se non andartene dal giardino con un ultimo brivido per la mia ripugnante miseria e mescolarti ai tuoi simili e dimenticare che mai abbia strisciato sulla terra un mostro come la povera Beatrice fingi di ignorare piace Giovanni fissandola con acre collera guarda questo potere io l'ho acquistato dalla pura figlia di Rappaccini uno sciame di insetti estivi volava nell'aria in cerca dell'alimento promesso dai fiori profumati del fatale giardino volteggiavano intorno al capo di Giovanni attratti evidentemente dal medesimo influsso che per un momento li aveva richiamati nella cerchia di parecchie piante egli soffiò il suo alito nello sciame e sorrise con amarezza a Beatrice quando almeno una ventina di insetti caddero a terra morti vedo vedo gridò Beatrice è la scienza fatale di mio padre no Giovanni no non sono stata io mai mai ho sognato solo di amarti e di esserti vicina per breve tempo e poi che tu proseguissi il tuo cammino lasciando soltanto la tua immagine nel mio cuore perché Giovanni credimi sebbene il mio corpo sia nutrito di veleno il mio spirito è creatura di Dio e brama l'amore come il suo quotidiano alimento mio padre lui ci ha uniti in questa spaventosa affinità sì disprezzami calpestami uccidimi che cos'è mai la morte dopo parole come quelle che hai pronunciato ma non sono stata io io non l'avrei mai fatto nemmeno per un'eternità di gioia l'ira di Giovanni si era esaurita nel suo fiotto di parole lo riprese una sensazione dolorosa e non priva di tenerezza degli stretti particolari rapporti che le univano a Beatrice ambe due si trovavano per dir così in una solitudine estrema che il più fitto a calcarsi di vita umana non avrebbe reso meno perfetta non doveva dunque il vuoto di umanità intorno a loro unire più strettamente insieme la coppia isolata e chi mai avrebbe dovuto mostrarsi benigno con loro se si medesimi erano crudi l'uno verso l'altra e poi pensò Giovanni non poteva esservi ancora per lui qualche speranza di tornare nei limiti della comune natura conducendo con sé per mano Beatrice una Beatrice riscattata o spirito debole egoista indegno che poteva ancora sognare possibile un'unione terrena e una terrena felicità dopo che un amore così profondo come l'amore di Beatrice era stato così terribilmente offeso dalle mortali parole di Giovanni no no non poteva esistere una simile speranza con quel suo cuore spezzato che la doveva penosamente varcare le frontiere del tempo doveva bagnare le sue ferite in una fonte di paradiso e dimenticare il suo dolore nella luce dell'immortalità e ivi trovare pace ma Giovanni non lo sapeva cara Beatrice disse avvicinandosi a lei mentre il si ritraeva al suo approssimarsi come aveva fatto sempre ma questa volta con un impulso diverso carissima Beatrice il nostro destino non è ancora irrimediabile guarda questa è una medicina potente a quanto mi ha assicurato un saggio medico ed un'efficacia quasi divina è preparata con gli ingredienti più opposti alle sostanze con cui il tuo terribile padre ha gettato questa calamità su te e su me è distillata da erbe benedette beviamola insieme e saremo così purificati dal male dammela disse Beatrice stendendo la mano per prendere la piccola fiala d'argento che Giovanni si era tratto dal petto e aggiunse con particolare enfasi io bevo ma tu attendi prima il risultato avvicinò alle labbra l'antidoto di Baglioni e in quel medesimo istante la figura di Rappazzini uscì dal portale e venne lentamente verso la fontana di marmo mentre si avvicinava il pallido scienziato parve guardare con un'espressione di trionfo il bel giovane e la sua compagna come un artista che avesse dedicato tutta la sua vita a compiere un quadro o una statua e fosse infine soddisfatto del proprio successo si fermò la sua forma curva si raddrizzò nella coscienza del suo potere protese su loro le mani aperte nell'atto di un padre che invochi una benedizione sulle sue creature ma erano le stesse mani che avevano inoculato il veleno nella loro corrente di vita Giovanni tremò Beatrice fu scossa da un brivido nervoso e si preme la mano sul cuore figlia mia disse Rappazzini non sei più sola al mondo cogli una di quelle preziose gemme della tua pianta sorella e di al tuo sposo di portarla sul petto non può fargli alcun male ormai la mia scienza e la simpatia che vi unisce hanno operato sul suo organismo in tal modo che ora egli è separato dagli uomini comuni come tu figlia del mio orgoglio e del mio trionfo dalle altre donne andate dunque per il mondo teneramente uniti fra voi e terribili per tutti gli altri padre mio disse Beatrice con voce fievole e mentre parlava si premeva ancora la mano sul cuore perché hai inflitto alla tua creatura questo infelice destino infelice esclamò Rappazzini che intendi dire bimba sciocca consideri un'infelicità essere dotata di doni meravigliosi contro i quali non esiste potere o forza di cui un nemico si possa servire infelicità essere terribile quanto bella avresti dunque preferito la condizione di una debole donna esposta a subire ogni male e inetta a cagionarne alcuno avrei voluto essere amata non temuta mormora Beatrice accasciandosi a terra ma ormai non importa più io vado padre là dove il male che tu hai cercato di mescolare il mio essere si direguerà come un sogno come il profumo di questi fiori velenosi che non corromperà più il mio respiro tra i fiori dell'eden addio Giovanni le tue parole di odio pesano come piombo sul mio cuore ma anche esse cadranno mentre io ascendo oh non vi era fin dal principio più veleno nella tua natura che nella mia così profondamente avevo operato la scienza di rappaccini sul corpo di Beatrice che come il veleno era stato per lei vita così il potente antidoto era morte la povera vittima dell'ingegnosità umana della deviazione dell'umano carattere e della fatalità che accompagna sempre gli sforzi di una scienza pervertita morì ai piedi di suo padre e di Giovanni proprio in quel momento il professor Pietro Baglioni si sporse dalla finestra e chiamò a gran voce con un tono in cui al trionfo si mescolava l'orrore l'uomo di scienza che era rimasto folgorato rappaccini rappaccini ed è questo il risultato del vostro esperimento grazie a tutti grazie a tutti